Sta registrando? Allora, un effetto di mentalismo puro, puro, ok? Carte diverse, giusto? Sì. E adesso mescolo il calco, ok? Affinché io non possa pensare che ci sia, giusto? Un ordine. Ora pensane una. Guarda, quello che vuoi. Sì. Ce l'hai? Sì. Nera, giusto? Sì. Una figura? Sì. Che carta era? È il gecchi di picche. No, dai, pazzesco. Andiamo avanti ancora, andiamo avanti ancora. Prendiamo le carte le mescoliamo, ok? Come hai fatto? 15 anni. Mescoliamo le carte, ok? Pensane una, quella che puoi tu. Ce l'hai? Sì. L'hai vista bene? Sì. Rossa? Sì. Cuori? Sì. Carta importante? Sì. Che cartella? È il capo di cuori. No, dai. Tu hai visto il capo di cuori del mazzo? Non di quadri, di cuori? No, di cuori. Ok, quando tu vuoi, dimmi stop quando vuoi tu. Stop. Ok. Carta di cuori, di cuori. Sì. No, Stefano. Andiamo avanti, andiamo avanti. È il capo di cuori. Mescoliamo le carte. Pensa una carta diretta, vai. Puoi, puoi tu. Ce l'hai? Sì. Fatto? Sì. Rossa? Sì. Per la prima volta, che carta era? È 10 di cuori. 10 di cuori. No, dai. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti e oltre. Ancora, ancora, perché facciamo proprio un record. Ecco, spingiamole bene tutte. Giusto? Se la cosa si mescolata, mamma? Sì. Ok. Adesso, ancora una volta, andiamo un'altra mescolatina. Veloce, distinto. Una carta, vai. Sì. Pensata? Sì. Ce l'hai? Nera? Sì. Per la prima volta, che carta era? È 5 di picche. No, dai. Andiamo avanti ancora, la lontana volta. Facciamo un miracolo finale. Guarda questo miracolo finale. Pensa nemmeno, vai. Ce l'hai? Sì. Hai vista? Sì. Rossa? Sì. Una carta rossa? Sì. Di quadri? Sì. Dimmi la carta. È 10 di quadri. Signori e signori, questo è stefano mobile.